MTC Parrucchieri, grazie al QR Code potrai prenotare direttamente dal tuo telefonino il tuo appuntamento. Buongiorno, buongiorno, buongiorno mondo. Come state? Benissimo, pure io, fantastico. Oggi ho cambiato la disposizione del monitor perché prima ce l'avevo dietro la telecamera. Adesso l'ho spostato leggermente a sinistra e quindi quando parlerò con voi e dovrò guardare qualcosa sul monitor, non ci fate caso. Bene, oggi io volevo parlare di capelli, di capelli estesi. Vi piacerebbe di avere una capigliatura belli e folti? Avete i capelli corti e rovinati? Quindi volete cambiare la vostra immagine? Bene, siete arrivati al punto giusto. Ora vi faccio vedere che cosa si può realizzare con l'Estation. Andremo a vedere quattro tipologie di extension del momento. Allora, andiamo a vedere, eccola qua. La prima è un'estensione classica di una cliente che ha un taglio paro, ho detto anche carree, leggermente alleggerito sulle punte, però appoggiano sulle spalle della cliente. Quindi abbiamo ottato per un colore 8 a un 7 nella cartella colori tradizionale. I colori dei capelli hanno delle denominazioni differenti in base alla provenienza. Qui a Maria abbiamo proposto 100 ciocche e un lavoro in due ore è stato realizzato. Importante, abbiamo montato quattro inserti con queste 100 ciocche, che sono quattro righe che prendono tutta la testa, come faccio io con i miei divini. E guardate un po' che risultato, poi questi qua sono stati dei capelli leggermente mossi, naturali. Una volta montati abbiamo realizzato una piega naturale, non con il phon, ma con la personalità del capello e l'abbiamo tirato fuori. Fantastico, molto bello. Allora, la cambio nuovamente, eccola qua. Questa è Matilde, Matilde ha un problema di quantità di capelli, ce l'ha i capelli, però sono tanti e fini. Anche questa sono con 100 ciocche, con la differenza che la ondulazione, quella della ciocche, non era adeguata a risultare. Quindi abbiamo realizzato sui capelli leggermente mossi, prendiamo un rapporto da uno a dieci, prendiamo tre, quattro, abbiamo portato a sei, sette il tipo di riccio e poi l'abbiamo montato. Qui molta attenzione, ci vuole sempre molta attenzione a gestire un capello riccio, perché il capello riccio è elastico e potrebbe creare dei problemi. Però una volta che uno decide un progetto di questo genere, ti darò tutte le informazioni adeguate per gestire la tua estensione. Ricordo, il canale YouTube, mettete mi piace, attivate la campanella che quando pubblicherò un video moda, tendenza e creatività, sarete aggiornati con le ultime. Oggi stiamo parlando di Estation, quattro lavori da un'estensione classica a un infoltimento di capelli. Andiamo a vedere. Qui è un lavoro molto particolare. Se voi notate, ha un capello corto, un caschetto abbastanza lungo. Quindi, il volume dei capelli, dall'attaccatura fino all'esterno, stiamo parlando dai sette agli otto centimetri. Quindi, per creare un'estensione perfetta che si sposa madre e figlia bene, stiamo parlando di centocinquanta, centottanta ciocche. È un lavoro che noi garantiamo cento giorni, ma gestito adeguatamente può arrivare anche a cinque mesi. e in questo momento avrai i capelli lunghi, senza aspettare vari anni, in due ore posso realizzarti questo tipo di lavoro. Prima andiamo a vedere, eccola qua, io l'adoro. È un parziale di Estation che per tutte quelle persone o per tutti quegli stili dove non si può raggiungere la misura aspettando che crescano, noi possiamo realizzare dei carré fantastici su quelle persone che hanno pochi capelli qui di fronte, che sono o due o tre inserti che ti danno l'opportunità di riempire e creare stile. in questo caso qua abbiamo realizzato proprio una cosa d'estiva tipo pulcito sulla parte alta e lisci sulle parti laterali per avere un look estivo. Allora, ritornando a noi, oggi abbiamo visto quattro tipologie di allungamento di capelli, un capello cento shock classico, un allungamento in foltimento con cento shock anche la seconda con un volume differente, poi siamo arrivati a un'estensione un po' più particolare, un taglio a bob, abbiamo allungati i capelli, noi abbiamo dalla cute all'esterno dai sette a otto centimetri e dobbiamo montare ciò che tante quindi dalle centocinquanta alle centottanta per sposare madre e figlia insieme e avere un risultato meraviglioso. E per ultimo quella integrazione laterali che va moltissimo nei parrucchieri, quante volte succede che hai voglia di un taglio però non lo puoi realizzare perché devi aspettare che crescano. No, adesso è possibile è solamente con una consulenza una consulenza gratuita e quindi vi aspetto in via di Tor Vergata 39A troverete i miei numeri nella descrizione per avere un appuntamento e una consulenza gratuita per la tua estensione estiva. Quindi vi ringrazio è stato un piacere e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao MTC parrucchieri uno stile giovane in continua evoluzione al passo con i tempi che rispecca le tendenze inglesi e spagnoli ispirandoci alle ultime novità ogni giorno con i nostri tagli colori extension MTC parrucchieri grazie al QR code potrai prenotare direttamente dal tuo telefonino il tuo appuntamento portico un appuntamento il tuo appuntamento vi ho il tuo poto il tuo